I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno concluso un'articolata indagine, coordinata dalla seconda sezione pubblica Amministrazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ha consentito di sequestrare due immobili, un terreno e diversi rapporti di conto corrente intestati ad un falso cieco residente nel capoluogo campano. I militari, a seguito di numerosi appostamenti e pedinamenti, hanno acquisito rilevanti elementi indiziari a carico di un 46enne, in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nella misura di oltre 110.000 euro. Le fiamme gialle hanno sorpreso il sedicente invalido a compiere attività di deambulazione non compatibili con lo status di cieco civile assoluto ricoperto dal medesimo a partire dall'anno 2003, una su tutte la guida dello scooter, talvolta con tanto di passeggero a bordo. L'ultima visita medica per il rinnovo della patente attestava la sua capacità visiva a ben otto decimi.